ok, allora rifacciamo un attimo il lampione brevemente, perché ho perso due cosine nel filmato precedente, quindi cancelliamo, quindi selezioniamo cancelliamo, poi per aiutarvi vi mettiamo anche il display dei tasti, qua quindi facciamo un pochino più grossi ok, quindi qui vedete i tasti che premo allora cominciamo di nuovo con il metodo che abbiamo visto la volta scorsa facciamo shift A e introduciamo il cerchio, nel cerchio vedete che qui a sinistra abbiamo queste opzioni che rimangono finché non lo spostiamo quindi dobbiamo fare immediatamente la modifica a 6 ok, poi una volta fatto questa modifica siamo sicuri di selezionare qua e andiamo subito in edit mode essendo in edit mode ci accertiamo che sia selezionato tutto se non lo è, premiamo A e A e poi facciamo un estrude estrude Z per estrudere verso l'alto ok, poi facciamo S per largare facciamo un po' il lampione poi facciamo E Z verso l'alto S stringiamo E S 0 chiudiamo il lampione ok, facciamo poi l'estrusione qua quindi cosa facciamo E S accorciamo un po' il lampione ok, poi facciamo E Z facciamo un po' il palo del lampione poi facciamo questo punto E S l'allarghiamo la base e poi facciamo E Z e poi S per scalare per fare un po' una base e poi chiudiamo il fondo facciamo E S 0 ok, questo qui è un po' il ripasso del lampioncino andiamo in Object Mode facciamo S e lo rimpiccioliamo un po' lo alziamo ok, e qui abbiamo il nostro lampione ora, quello che mancava la volta scorsa era il discorso sui normali qui se facciamo F12 viene più o meno la foto sarebbe forse anche per vederlo un po' meglio si può fare il tasto destro sulla luce e poi selezionare una luce di tipo EMI vedete che è un faro un po' più immediato facendo F12 viene illuminato un pochino meglio quindi questo giusto per vederlo normali molte volte voi fate una cosa di questo tipo e poi verrà male verrà male perché le normali sono sbagliate magari una faccia risulterà trasparente perché la normale è invertita allora, c'è un modo andando in Edit Mode quindi si va in Edit Mode poi si fa anzi, siamo scusate ok e poi qui c'è un'opzione che permette di ricalcolare le normali e tipicamente funziona molto bene Recalculate Normals ma per saperlo se le normali sono giuste o sbagliate conviene fare riferimento a qua sulla destra sotto Mesh Display vedete che c'è scritto Normali se voi abilitate le normali sulle facce e poi aumentate le dimensioni da 0,1 a ad esempio 3 metri vedete che da ogni faccia escono le normali le normali sono giuste se tutte le normali vanno verso l'esterno se una di queste normali è sbagliata la vedrete trasparente quindi sparirà nel vostro quando importerete su OpenSIM qui noi selezioniamo con questo una faccia quindi selezioniamo questa faccia e qui possiamo forzare una normale sbagliata quindi dire Flip Direction vedete che a questo punto la normale di quella faccia non è più giusta questo vuol dire che se io guardo questo oggetto non verrà più bene quindi se io adesso faccio una specie di foto continua da qua faccio la visione Rendered vedete che posso vedere il mio oggetto allora da qua non è che si veda benissimo che è sbagliato si vede quando si porta in Second Life ecco perché l'ideale è quello di verificare che le normali siano giuste selezionando tutte le facce e poi facendo Recalculate Normal vedete che mette a posto di solito le normali ma se conosco esattamente qual è la faccia sbagliata tipicamente questa posso selezionarla e poi fare Flip Direction e vedete che le normali si rispunta all'improvviso ok allora a questo punto facciamo di nuovo l'export su Second Life e lo vediamo quindi facciamo File Export Collada io ho anche Avast ne ho due di Collada quello che vi insegno a usare è quello di default se non avete Avast ce n'è uno solo e non c'è confusione Collada default andate sul dove volete salvare qui accertatevi di avere l'export in formato SL OpenSIM Static poi vi conviene ma lo vedremo poi dopo anche cliccare Material Texture e solo Selection Only questo è importante e lo fa già lui e quindi dovete aver selezionato in Object Mode il vostro lampione una volta fatto questo avete lampione ennesimo e viene salvato in formato dai quindi faccio invio e lui viene salvato ok allora eccoci su Craft OpenSIM e qui vediamo di tirare su un lampione farò a vostro consumo un lampione sbagliato quelli con le normali che non vanno per intenderci e poi il lampione giusto quindi andiamo su carica sul server modello e poi andiamo sul dove abbiamo salvato i famosi lampioni di prima e qui abbiamo il lampione sbagliato dico sbagliato perché c'era i normali che non vanno allora facendo Open di questo di questo nostro ok vedete che il lampione eccolo qua io posso fare Shift dunque se io faccio Shift e giro vedete che gira il lampione e posso provare a importarlo qui nome modello mettiamo lampione ultimo e poi qui facciamo calcolare pesi tariffe e poi carica a quel punto il lampione ultimo lo possiamo trascinare dall'invento per terra ecco allora vedete che questo lampione è sbagliato perché perché una faccia ha le normali sbagliate quindi vedete questo è l'effetto che si ha quando le normali non sono a posto carichiamo quindi praticamente questo è l'effetto che si ha tanto per intenderci quando questa faccia qua vedete che c'ha nella visione con le normali non c'è la normale che esce e l'abbiamo vista prima come si faceva a vedere invece se proviamo a caricare quello giusto basta fare carica sul server modello e carichiamo il lo qua lampione ennesimo punto dae carichiamo eccolo qua qui vedete che si chiama con lo stesso nome con cui era stato creato originalmente in blender si può anche cambiare il nome qui mettiamo lampione giusto qui facciamo calcoliamo pesi tariffe carica vedete che in open sim è molto più rapido oltre a essere gratis e quindi nel momento in cui carichiamo il lampione giusto vedete che non c'ha zone trasparenti ok una sola cosa appunto che ho detto che si può cambiare il nome questo qui vedete che si chiama circle questo quindi adesso qui innanzitutto gli facciamo il recalculate e quindi calcolato con le normali giuste poi andiamo qui e qui possiamo dirgli doppio clic qua possiamo dire lampione e cambiargli nome facendo l'export adesso comparirà poi in second life o in open sim con quel nome quindi io direi adesso abbiamo visto un po' tutto tutto cioè c'è in realtà un sacco di cose ancora da esplorare ah una cosa interessante è che il lampione sbagliato si può provare a correggere facendo l'import del modello quindi carica sul server modello potrei prendere il lampione sbagliato lampione sbagliato che c'è le normali sbagliate eccolo e provare a chiedergli a second life di aggiustargli le normali questo quando ci comparirà la eccolo qua allora questo qui lampione lampione sbagliato ma aggiustato da chiamiamo un sl così basta che gli si clicchi genera normali e poi si ripete come prima carica quindi lampione sbagliato ma aggiustato da sl nel momento in cui lo rizziamo non ha funzionato perfetto allora quindi vedete che è una finta quindi la cosa ideale è proprio caricarlo giusto in partenza e con questo vi do appuntamento al prossimo video alla prossima lezione è l'ultima credo di fine gennaio 2014 in cui vedremo tutti i segreti delle texture arrivederci grazie a tutti